Ciao a tutti, ragazzi, ragazze, benvenuti o ben trovati in un nuovo, nuovissimo video Allora, mi vedrete così un po' malaticia perché effettivamente mi sento reale, bene, ho raffreddore, febbre, mal di gola, tosse che a me la tosse e i raffreddore mi fanno davvero impazzire tutto franne questo, ecco e infatti non sono riuscita a pubblicare i video ieri, ossia mercoledì perché oggi è giovedì, proprio per questo fatto quindi mi volevo scusare tantissimo con voi e per rimediare vorrei portare i tuoi video sul canale questa settimana infatti questo video sarebbe un altro video che andrò a fare ossia un vlog, è così un art studio vlog che uscirà dopo questo video fatemi sapere se i vlog vi piacciono, non li faccio mai perché su un canale SBR non si vedono molti in realtà scusate, ho tutto qua rosso per lo sfogo del naso, vabbè però mi piacciono molto i vlog e soprattutto perché io non ho un canale SBR come tutti gli altri nel senso che a me piace disegnare, mi piace creare e quindi vorrei portare di più questo aspetto sul mio canale comunque oggi andrò a fare un video molto, 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 molto richiesto ossia, ossia, lo sto facendo, si chiama il caprotin e la meca protin è di tutti i genitori perché mi avete fatto un sacco di complimenti sulla base e quindi voglio andare a provare quel trucco allora, in mano delle salpettine stoccanti che ho già utilizzato ho già messo il latte detergente e il tonico in realtà quando sto male non vado mai a truccarmi perché mi dà davvero fastidio però volevo fare questi video anche se sto male ho ancora la febbre e il raffreddore comunque mi piaceva e non sono rimanata dal lavoro ho chiesto di potermi assentare fino sabato fino a minardi perché sabato non ho conto di ritornarci però comunque domani, anche se sono malata devo per forza andare all'accademia perché ho fatto davvero davvero troppe, troppe assenze e non posso più mancare ecco, io le assenze purtroppo bene gestisco male ossia, magari manco quando non mi va e poi quando ho davvero bisogno di mancare non posso mancare perché sono già mancata comunque per prima cosa vado ad utilizzare questa crema viso della Sien è una crema molto economica in realtà ce la si è così che è così ma questa è praticamente finita quindi non l'abbiamo ad utilizzare e non l'abbiamo ad utilizzare così ne metto proprio poca oggi un pochino è tipo così però gli altri giorni ne metto un po' di più perché essendo malata essendo raffreddata non mi va di avere roba sulla faccia mi dà proprio lo studio però mi sta toccando perché devo uscire assolutamente se no ok, non è tanto male di andare a Roma e quindi cerco un pochino di riprendermi perché come ho già detto non posso mancare ma perché appunto devo fare un vlog dopo e credo che sarò viste allo stesso modo e quindi sarò truccata allo stesso modo però insomma voi potete raffirmi allora ho già fatto un po' le sopracciglia in realtà però andiamo ad arrivare perché purtroppo non ho molte sopracciglia e quindi io me ne vado sempre a disegnare anche quando esco sblocata che sopracciglia almeno un pochino e le devo riempire utilizzo questa minima della Essence non ho un po' di trucchi in realtà anzi mi stanno riempendo io utilizzo le cose fino alla fine poi quando sono finite ok, vado a riempire però non mi serve niente per i dubbioni perché mi fanno solamente confusione e voglio davvero poco spazio per i trucchi ho un cassetto e non intendo prendere altro spazio perché davvero non c'è la camera mia vorrei farvi tanto come si chiama il tour della mia camera ecco però davvero non è niente di che quindi vedo tante ragazze insomma che hanno queste bellissime camere su youtube però c'è il look che io non sia contattata della mia insomma però la mia non è niente di che ecco ah comunque non sto mi sto dicendo cosa sto facendo sto andando a mettere questo punto dentro qui dps quei tre puntini ps minor best color double coverage foundation numero quundici allora cosa direi di questo fototipo allora ho un po' le tante cose in faccia e mi sono caricata allora ora lo stento e mi dico cosa ne vado ok ora sono molto più bianca in realtà ve l'ho detto ora volevo caricarvi perchè non sto molto bene ho forse un po' esagerato con le porzioni però oggi è tutto un po' too much lasciamo perdere questo discorso allora comunque lo stesso con la mia beauty blender e come mi trovo con questo prodotto allora in realtà non mi trovo molto 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 bene però il mio fondo ditta di essence è finito purtroppo quindi devo volevo finire questo anche perchè l'ho pagato quindi lo volevo finire e poi mi riprendo quello della essence ecco e l'ho appena cominciato allora mi ha detto che il suo lavoro fa ossia che copre una cifra quello di questo non possiamo lamentarci però mi fa seccare tanto la pelle e per seccare la mia di pelle insomma ce ne vuole perchè io non ho la pelle secca ho la pelle molto 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 grossa quindi per seccare davvero la mia ce ne vuole tanto e questo allora credo che sia finita la pelle secca questo non potete permetterlo allora con cifria vado a utilizzare questo fondo di decuppante o polvere le prendo porra le prendo un po' le patate di sarei giusto qui appena di questi qua da piccola mi piaceva davvero davvero tanto truccarmi vedevo tutti i tutorial di trucco pensavo di diventare un amico party sto giorno e in realtà tutto può essere tutto può ancora essere come conturi che ho fatto utilizzare questa terra che mi ha regalato le madri quindi non so di più marcasia però c'è un profumo fantastico mamma mia e mi piace tanto perché sta lì in una spava oggi metto tutto di tutto come è possibile vabbè poi andiamo a smammare comunque a me piace molto il contouring nel senso che mi piace molto avere il viso scolpito perché io purtroppo mi vedo affutare quindi visto che mi vedo molto affuto avere un po' di contouring non fa mai male comunque se volete posso proporre altri che trovi di me con un tema in realtà volevo parlarvi di un po' di cose vorrei fare un video in realtà molto pesante per me ma che secondo me potrebbe aiutare sia me perché ne parlo che altre persone che sicuramente si trovano nella mia sempre situazione aspettando qualche story time nel corso di queste settimane devo fare un sacco di video per un giorno che arriveranno allora questo è stato richiesto da un sacco di persone poi devo fare il video sui miei viaggi su come mi hanno fatto piaggiare così tanto nel 2019 e quello assolutamente lo voglio fare perché voglio dare alcuni consigli se anche a voi piace viaggiare però come me non dispone del tanto denaro ah vabbè tantito di segno che questa vorrei fosse un'altra importante novità portare da molti molti più di segno comunque la base l'abbiamo fatta e questa è la mia base da me la mente allora credo martedì entra a comprare questa matita da Kiko la 02 perché la matita bianca che ho della tevora fa leggermente schifo e a me piace troppo la matita dentro gli occhi e non potevo metterla più perché io senza la matita bianca nasco di casa quindi ho preso questa qui e mi ricordo che avevo anche all'epoca la matita di Kiko in realtà ho deciso tra questa e quella della seafora con la gel che a termine c'è sia la seafora che la Kiko quindi mi ero un po' indecisa perché tanto le stanno più meno vicine però poi li ho battuto per questa qua perché mi ero trovata già bene tanto anche anche se il tag è leggermente diverso è il risultato finale di questa bellissima matita bianca in realtà mi lacrimano un po' gli occhi perché appunto vengono febbre eccetera mi danno un po' fastidio ora però da sempre bello vedersi almeno un pochino più presentabili quindi perfetto e il mio trucco caratteristico è prendere un pennellino e la questa adorabile palette dell'alix los angeles questa palette è la mia palette della vita l'ho comprata un sacco di tempo fa e ancora ci sono i colori e li uso davvero tutti i giorni io davvero te la consiglio se dovete investire in qualcosa investite in questo perché davvero è la cosa più bella del mondo vi fa degli occhi strepitosi più di rossettino che ancora utilizzo anche se è quasi scarico comunque vado a perdere i miei marroni e li metto sotto ossia questo è il mio fronco di tutti i giorni che faccio questo è l'effetto finale dell'ombretto ora ovviamente senza la scara non è lì ora andate a mettere questo una scara il dett 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 questo qua è molto molto carino il pack però non fa le sue dispesi non li vale proprio infatti non visto che il mio fate dice che è bellissima come vero fare la extra di essence e hanno quasi 25 euro di differenza quindi non lo ricomprerò però lo tengo come pezzo quindi lo tengo assolutamente però non lo diciamo lo ricomprerò sicuramente perché è davvero uno spreco di soldi secondo me perché la love extreme di assenza ha fatto davvero il suo dovere e lo faccio molto legiglia e tutti i miei panni complimenti quando ce l'ho indosso anche se allora non è che abbia le ciglia scusate questa roba delle ciglia molto lunghe però con la mascara della essence diventano stremitosi a pari di ciglia mente ecco e io non le utilizzo ciglia mente perché non sono capace a mettervele ho le ciglia magnetiche ma davvero sono ricata e non ho pazienza più troppo sulle cose vabbè vado a mettervi questo pascal io non ho pazienza più che Ok ragazzi, ho finito, ho solamente appunto questo qui, e sono pronta, pronta pericosa, per niente, perché tanto resto a casa, però appunto volevo fare questo vlog, di tanto male che mi preparo un po', perché se l'ho appunto fatto un po', non vorrei sbattarmi solo, quindi ragazzi e ragazze, questo che trovi di with me, finisce qui, io spero davvero che vi sia piaciuto, e mi dispiace davvero davvero tanto che mercoledì non ci sia uscito nessun video, ma sta davvero davvero tanto male, oggi la febbre, credo di non averla più, però ancora non mi sento tanto bene, infatti domani a scuola ci vado sotto un cappucciata, voglio dormire ora al lavoro, perché è impossibile, non ce la faccio, a certe volte mi devo riposare anch'io, perché io ho portato troppo da me stessa, e quando non ce la faccio a fare le cose, mi incolpo, infine devo stare più tranquilli, e adesso era un pochino, non vede perché chissà su questo fatto, quindi ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, scusatemi un po' la luce, in realtà l'olore non l'ha da un bellissimo, perché infatti c'è l'ombra, comunque questo, ecco qua, comunque si sta un po' scherzando, vabbè, è il fondo di tutta, questo è il risultato finale, e certe volte metto l'illuminante, certe volte no, anche se vorrà tantissimo comprarmi l'illuminante di Rihanna, e tra un po' ve lo ripeterò, perché è troppo 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 bello, sono vada da provarlo, è quella cosa più bella del mondo, un po' che per i brillanti 10 muoio, quindi qualche volta lo metto, qualche volta no, di solito di tutto l'illuminante della NYX, della stessa volta che vi ho fatto vedere, oppure un illuminante dorato di pupa, e oggi è un trucco molto 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 matto, in realtà, quindi ragazzi scusatemi dei rumori di sottofondo, spero vi sia piaciuto il tutto, ecco, e noi comunque ora ci rivediamo nel prossimo video, ossia nel vlog che uscirà sempre questa settimana, perché appunto mi volevo tanto scusare con voi, quindi usciranno i due video, ciao, 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 ciao.